Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Io sono Dama Collezione e benvenuti sul mio canale. Ben ritrovati ragazzi, oggi vi mostrerò la mia collezione di steelbook live action Disney. Ma non solo, oltre ai film in carne ed ossa, quelli storici targati Walt Disney, mi mostrerò anche le mie steelbook che fanno parte del cosiddetto reimmaginazione Walt Disney dei classici animati dei Walt Disney Studios. Ognuno di essi ha delle peculiarità un po' specifiche perché alcuni sono proprio dei remake pari pari al cartone animato originale come il libro della giungla, mentre altri hanno preso una strada completamente diversa rinnegando la storia del cartone come Mulan, mentre in alcuni casi sono state apportate delle modifiche ma la storia è mantenuta così com'è e in alcuni casi anche le canzoni sono state mantenute come parte integrante della narrazione. Quindi mi riferisco tipo a Aladdin o a La Bella e la Bestia che più o meno sono molto simili alla controparte animata. E sono comunque dei lungometraggi che stanno avendo enorme successo seppur abbiano quella sorta di critica perché sono comunque un remake e quindi denota anche che la casa di Topolino prediliga andare sul sicuro e sfornare progetti dall'ampio appeal ma che non hanno nulla di originale e non hanno tante averve originale. Ti ho visto il successo del Re Leone, di Aladdin e di tanti altri film di questo filone reimmaginazioni Disney, si capisce anche il perché la casa di Topolino perché la Walt Disney abbia deciso di puntare su questo filone qui. Nei prossimi anni arriveranno anche tantissime nuove opere e recentemente è arrivato su Disney Plus e al cinema l'adattamento di Crudelia che è basato sul cattivo principale della Carica dei 101. Quindi non è esattamente un remake, una reimmaginazione Disney ma è più una sorta di prequel che strizza un pochino l'occhio a Maleficent come struttura narrativa che è anche quel film lì che ha dato il via a questa reimmaginazione Disney di questo filone qui. Anche esso è un prequel e ha avuto enorme successo. Quindi Crudelia che è appena uscito si inserisce questo binario qui e vedremo come si posizionerà nei cuori degli spettatori e come si posizionerà all'interno di questo filone reimmaginazioni Disney. Io ancora non ho avuto modo di vederlo ma sono curiosissimo perché Emma Stone a me piace. La prima Steve Book che vi presento è in realtà il primo tassello di questa sorta di reimmaginazione Disney con Alice in Wonderland diretto da Tim Burton che è praticamente l'adattamento live action del cult Alice in Paese delle Meraviglie. Un film eccentrico, particolarissimo che ha funzionato benissimo all'epoca che uscì nelle sale e che ha avuto enorme successo grazie anche a un cast notevole in cui spicca il mitico Johnny Depp nei panni del cappellaio matto. Una pellicola davvero sorprendente, visivamente incredibile, molto bella dal punto di vista degli effetti speciali e anche della qualità visiva. è un film davvero sorprendente e spettacolare, molto bello che ha dato vita a questo filone qui. Questa qui è una steelbook inglese proveniente da Zabby con audio italiano al suo interno perché questa steelbook qui non uscì nel mercato italiano. e questa è Alice in Wonderland, edizione steelbook doppio disco con il disco 3D e il disco Blu-ray. Poi, anni dopo, visto l'enorme successo di Alice in Wonderland la Disney ha messo in cantiere anche il seguito che è basato sull'omonimo libro sequel di Alice nel Paese delle Meraviglie ovvero attraverso lo specchio. Si tratta di un seguito completamente diverso dal precedente capitolo che è basato appunto sull'omonimo libro di Lewis Carroll per cui diciamo che hanno adattato il secondo romanzo il romanzo sequel di Alice nel Paese delle Meraviglie hanno realizzato questo secondo lungometraggio mantenendo il cast della precedente pellicola, del precedente capitolo e rimanendo fedele dal punto di vista visivo seppur Tim Burton si sia messo da parte e infatti la regia di questo secondo capitolo di Alice attraverso lo specchio viene affidata a James Bobbin questa qui è la steelbook italiana con audio italiano e all'interno ci sono ben due dischi il disco Blu-ray e il disco 3D troviamo come protagonista assoluto degli artwork il cappellaio matto che è una delle figure più iconiche del libro e della storia di Alice nel Paese delle Meraviglie adesso facciamo un passettino indietro con i live action Disney quindi ci ancoriamo a film storici della casa di Topolino perché ha realizzato anche tantissimi film in carne ed ossa e uno dei più belli è sicuramente il cult movie fantascientifico degli anni 80 ovvero Tron è un film che adoro tantissimo mi piace molto come lungometraggio che ha dato vita anche a un certo filone perché la storia è molto pre-digitale, futurista quindi è stata una storia all'avanguardia realizzata benissimo con effetti speciali all'avanguardia ed è diventato un piccolo cult ed è un gioiellino ultra tecnologico che per l'epoca è stato qualcosa di rivoluzionario sotto più punti di vista e se non ricordo male costò anche una valanga di soldi e fu un flop è davvero un cult della fantascienza puri anni 80 con Jeff Bridge ed è un capolavoro di genere un piccolo gioiellino che vi consiglio di vedere se non l'avete mai visto la stillbook è tedesca con l'artwork molto molto bello e con la scritta Tron in rilievo e anche la cornice qui presente è in rilievo c'è solamente un disco Blu-ray ma all'interno c'è audio italiano ed è una still fantastica per un film entrato di diritto nella leggenda di casa Disney adesso passiamo alla stillbook del musical diretto da Rob Marshall dopo i fasti di Chicago e si tratta della stillbook di Into the Woods un film che è stato un flop al botteghino ma che si inserisce molto bene nella mitologia di casa Disney perché alla fine è un miscuglio di tante fiabe di tante leggende ben sia Maigamon con l'ideologia di Topolino della casa di Topolino per cui è una storia che funziona che stirizza un pochino l'occhio se vogliamo a Once Upon a Time ma c'era una volta la serie televisiva della ABC che è una controllata della Disney assomiglia molto ed è un musical con un cast eccezionale dove spicca sicuramente Meryl Streep ma troviamo anche Emily Blunt Anna Kendrick Chris Pine e Johnny Depp quindi un cast di star eccezionali per questo musical qui che non ha colpito del tutto anch'io onestamente non me lo ricordo benissimo non è un film che rivedo sempre volentieri anche perché per essere un musical puro vecchia scuola dove le canzoni servono a portare avanti la narrazione non c'è proprio una canzone che è rimasta nella mente che ha vissuto al di fuori della pellicola non ha colpito più di tanto ed è un peccato io onestamente mi ricordo pochissime se non quasi nessuna delle canzoni di questo film musical Disney mi ricordo solo la canzone Money Mine to the Woods che è quella cantata quasi nell'incipit in cui i protagonisti prendono strade completamente diverse ed è una pellicola che si rifà molto alle leggende alle fiabe dei fratelli Grimm ed è un po' così nel senso che sicuramente non è tra i migliori film live action di casa Disney questa qui è la steelbook britannica di Zalvi con audio italiano molto carina l'artwork è bello è quello storico del poster ed è molto molto bello in cui troviamo praticamente tutti i protagonisti e qui troviamo la scritta in to the woods in rilievo così come la cornice molto bella come steelbook continuiamo con il quinto capitolo della serie dei Pirati dei Caraibi ovvero Pirati dei Caraibi la vendetta di Salazar la steelbook è davvero fantastica tutta in rilievo in cui troviamo il teschio il simbolo dei pirati in rilievo una steelbook italica per un film che non ha convinto perché sicuramente è il più brutto grosso modo del franchise dei Pirati dei Caraibi quello che dovrebbe aver affossato le speranze di un ulteriore seguito di un ulteriore capitolo perché tuttora il futuro del franchise dei Pirati dei Caraibi è ancora in un limbo e non si è ben capito se verrà riavviato o se avrà un reboot al femminile e non si è capito ancora niente sta di fatto che comunque i cinque capitoli della serie dei Pirati dei Caraibi in particolare la prima trilogia diretta da Gordon Pinsky con Orlando Bloom e Keira Knightley è entrata nella leggenda non solo perché ha incassato una vanga di soldi ma perché complessivamente è una trilogia davvero fantastica ed è davvero una trilogia votata all'avventura in pieno stile piratesco la pentalogia dei Pirati dei Caraibi deve moltissimo al Capitano Jack Sparrow a Johnny Depp che ha confezionato questa macchietta qui questo personaggio qui è un po' fuori dalle righe stralunato un po' così un po' pazzo un po' un po' così sopra le righe un po' fuori di testa che compie delle gesta bizzarre spericolate ed è entrato nella memoria collettiva perché il personaggio di Jack Sparrow è entrato davvero nella leggenda e Johnny Depp è perfetto per la parte è stato davvero perfetto questo qui è il quinto capitolo e che alla fine non ha funzionato benissimo perché dopo il terzo capitolo il franchise ha preso delle direzioni un po' così e un po' alla cavolo si è tentato più volte di replicare il successo della trilogia affiancando Johnny Depp a dei nuovi discepoli a delle nuove leve ma non hanno mai avuto il carisma di Orlando Bloom che era Knightley per cui alla fine la costante è rimasta Johnny Depp che seppur sia bravissimo ha anche bisogno di personaggi di contorno come il Barbossa o tanti altri in questo capitolo qui il villain principale il ruolo del villain principale è stato affidato a un grandissimo autore che è lo spagnolo Javier Barden ma che interpreta il capitano Salazar ma la storia non è ben scritta e non è strutturata molto bene per cui è stato un sonoro un sonoro in successo quindi un peccato perché il franchise secondo me aveva ampi margini di crescita e in questo quinto capitolo forse si è anche tentato di rimettere in carreggiata la cosa con una scena post titoli di coda che faceva presagire un ritorno dei ritorni importanti che non sono stati poi riportati al franchise perché appunto non è stato mai realizzato un sesto capitolo che avrebbe fatto magari da trade union per tutta la saga dei pirati per tutta la serie dei pirati dei caraibi quindi è un peccato comunque questa qui è la steelbook italica con due blu ray all'interno il blu ray del film e il blu ray 3d del film stile fantastica con il rilievo del teschio il simbolo dei pirati continuiamo con un altro film live action uscito a Natale di qualche anno fa si tratta di un film basato su una favola che è stata adattata in operetta è una fiaba fantastica incredibile anch'essa immortale che è lo schiaccianoci e questo qui è il film lo schiaccianoci e i quattro regni è appunto un lungometraggio che si basa sulla storica storia che è stata adattata tantissime volte a teatro per la sua forma a balletto in cui la mitologia dello schiaccianoci viene espansa ed improntata prevalentemente su un genere fantasy per creare un'avventura per ragazzi che strizza l'occhio appunto al periodo natalizio perché ci sono tante cose che spingono alla meraviglia allo sbalordimento ed è un'avventura per ragazzi carinissima ma niente di che tutto sommato incentrato su una ragazza clara che deve scoprire un mistero regato a sua madre che le lascia un misterioso messaggio per cui clara deve mettere insieme i puzzle e scoprire cosa è capitato alla madre visivamente è un film eccezionale ma che dal punto di vista della produzione è stato un film travagliato perché si sono succeduti due registi infatti qui nei crediti la regia viene affidata a due registi che sono Lasse Armstrong e Joy Johnson per cui è una cosa rarissima che due registi che non sono propriamente non hanno collaborato insieme non è un duo registico sono due registi completamente diversi che si sono succeduti alla regia e alla fine hanno firmato entrambi la regia dello schiaccianoci e i quattro regni questa qui è una steelbook italiana con un disco blu-ray la steelbook è molto bella in cui troviamo il logo e il simbolo del film tutto in rilievo ci sono alcuni elementi in rilievo in particolare il contorno qui dove troviamo la nostra protagonista Clara è stato un sonoro flop non ha non ha dato vita a un franchise come poteva sperare la Disney alla sua uscita ed è un peccato perché comunque troviamo dei artistoni nel casting come Karen Knightley Ellen Mirren Matthew McFlyden e Morgan Freeman per cui è un cast di tutto rispetto che però non ha portato al successo questo film qui adesso passiamo al prequel di una storia leggendaria di un film leggendario di un libro leggendario fantasy per ragazzini ovvero a Il Mago di Oz con questo prequel qui il grande e potente Oz è un lungometraggio prequel della storia immortale di Dorothy e del Mago di Oz ambientata molti molti anni prima della storica storia del Mago di Oz infatti il lungometraggio si concentra sul Mago di come sia finito Oz di chi sia di cosa abbia fatto prima di arrivare nel magico mondo di Oz un film diretto da Serraimi coloratissimo che diciamo visivamente richiama molto Alice in Wonderland di Tim Burton tutto colorato con questo mondo tendente per lo più al verde tutto ricostruito al computer con massicci effetti speciali in CGI e quindi richiama molto al film di Tim Burton infatti complessivamente è un film tipico per la filmografia di Serraimi perché è uno dei suoi film più innocui della sua carriera non ci sono tantissime verb registiche non è un film completamente riuscito anzi è uno di quei film live action Disney che sono entrati nel dimenticatoio perché complessivamente non è riuscito non è un brutto film ma non è neanche uno di quei film che entrano nella memoria nonostante abbia comunque un cast eccezionale perché troviamo troviamo James Franco e Mila Kunis oltre poi al mago di Oz troviamo anche le due streghe la streghe buona e la streghe cattiva e scopriamo anche qualcosa di più sulla rivalità di queste due streghe sorelle della streghe dell'ovest e della streghe dell'est questa qui è una steelbook inglese di Zabby molto molto bella storica difficile da reperire sul mercato perché è fuori catalogo da tanti anni in cui troviamo la scritta il logo qui il mago di Oz in rilievo ovviamente il blu-ray ha all'interno audio italiano ed è una steelbook molto molto bella storica peccato che il film non abbia colpito particolarmente perché secondo me aveva il potenziale enorme peccato e adesso passiamo a un musical leggendario di casa Disney uno dei suoi film più amati e più celebri per quanto riguarda il suo filone live action che però ha anche al suo interno delle scene animate ed è stato un film all'avanguardia perché per l'epoca è stato un film che mischiava molto bene diciamo elementi di riprese dal vivo con elementi animate con elementi cartoneschi è un musical leggendario davvero incredibile che è entrato nella storia del cinema non solo perché ha avuto un enorme successo e ha vinto anche numerosi premi Oscar ma è un film che è entrato nella leggenda prevalentemente per le sue immense e memorabili canzoni il film in questione è l'immenso film di Robert Stevenson ed è il film con Julie Andrews l'immenso musical vincitore di 5 Academy Awards Mary Poppins un film davvero sorprendente incredibilissimo stupendissimo con delle canzoni davvero celebri come Can Camminin ed è davvero un film entrato di diritto nella storia del cinema davvero incredibile questa qui è la stillbook storica di Zabby con audio italiano contiene un disco blu-ray e guardate che bella davvero davvero stupenda la scritta è in rilievo e anche la sagoma qui di Mary Poppins è tutta in rilievo in cui possiamo vedere all'interno della sagoma il Big Ben la stato di Londra e qui troviamo anche gli elementi animati gli elementi disegnati perché si tratta di uno dei primi film che ibrida molto bene con efficacia e con e con arguzia elementi di riprese dal vivo con elementi cartuneschi disegnati e quindi c'è questa ibridazione tra questi due mondi che per l'epoca è stata una cosa all'avanguardia una cosa quasi rivoluzionaria è un film leggendario ragazzi non so cosa dire di più su Mary Poppins perché è uno di quei film incredibili questo still è difficile da recuperare è uno di quelle stillbook storiche ed è un film entrato di diritto nella leggenda recentemente negli ultimi anni è stato realizzato anche un sequel ovviamente con un cast completamente diverso perché è stato realizzato 50-60 anni dopo ed è stato realizzato il ritorno di Mary Poppins con il regista Rob Marshall che aveva collaborato con la Disney al musical che vi ho presentato prima Into the Woods ovviamente è impietoso fare un po' il paragone con lo storico film di Mary Poppins ma nel suo complesso il seguito questo seguito qui il ritorno di Mary Poppins è un film comunque godibilissimo molto carino con delle canzoni molto belle molto fedele diciamo allo spirito del lungometraggio originale poi giustamente fa storcere il naso perché è stato realizzato tanti anni dopo senza i protagonisti originali dell'epoca ai puristi quelli che amano Mary Poppins da una vita questo film sicuramente gli avrà fatto schifo però secondo me nel suo complesso è un buon musical un bellissimo lungometraggio molto carino molto fedele con un ottimo cast in cui troviamo Emily Blunt Lin-Manuel Miranda Meryl Streep Codin-Furt e tante altre cose non esattamente basato su uno dei tanti romanzi di Mary Poppins di Pamela Travers ma è comunque una storia ambientata anni dopo al primo capitolo quando ormai i due ragazzini Banks sono ormai diventati grandi e hanno problemi a loro volta con i loro rampulli per cui mi è piaciuta molto questa diciamo questa sorta di omaggio e quella continuità narrativa a livello di storia infatti Mary Poppins rimane enigmatica un elemento misterioso magico che non si sa bene da dove provenga non si sa completamente nulla e quindi mantiene la sua aura enigmatica quasi da una strega quasi da elemento da elemento quasi sovrannaturale e quindi complessivamente a me è piaciuto ci sono due o tre canzoni che secondo me rendono molto bene ed è un musical complessivamente ben fatto qui in questa bellissima steelbook troviamo quest'artwork qui questa illustrazione qui molto bella colorata in cui troviamo la nostra Mary Poppins interpretata da Emily Blunt che è bravissima nella parte e poi anche il bravissimo l'Emmanuel Miranda nei panni del del nuovo spazzacamino protagonista questa qui è la steelbook italiana con all'interno un disco blu-ray molto molto bella davvero bellissimo musical adesso invece ci buttiamo a capofitto nelle reimmaginazioni disney con cenerentola diretto dal regista inglese Kenneth Branagh e questo è un film molto fedele all'originale alla storia originale quindi praticamente prende di pari petto la storia del cartoon la storia della fiaba storica ed è praticamente un adattamento live action del cartone animato non ci sono grossi stravolgimenti e non ci sono molti cambiamenti in atto in questo lungometraggio qui in cui troviamo Richard Madden e Lily James nei panni dei protagonisti la steelbook è italiana in cui troviamo in rilievo un elemento cult della celebre storia di cenerentola ovvero la scarpetta di cristallo questo steelbook qui include il blu-ray e il dvd ed è una delle prime steelbook delle reimmaginazioni Disney che sono uscite in Italia e questa è cenerentola proseguiamo con la bella e la bestia questa qui è praticamente una reimmaginazione Disney che prende di pari petto la storia del cartone animato e la trasla per il grande schermo in live action con personaggi in carne ed ossa dove la protagonista assoluta è Belle interpretata da Hermione Granger ma poi troviamo anche tanti altri comprimari perché ci sono tanti diciamo perché come il cartone animato ci sono tanti elementi animati animati in CGI come il candelabro rumier la signorina Brick il bambino chicco per cui ci sono tanti tanti elementi diciamo animati a livello di computer grafica ed è praticamente un film che ha un cast vocale eccezionale dove emergono Iwan McGregor Alan Rickman Steli Tucci Ian McKellen Josh Gad e Luke Evans il film è stato diretto da Bill Condon un registro anche lui proveniente dal cinema d'autore perché ha diretto Demonie e Dei e Dream Girls e questo qui è praticamente la traslazione di pari pari del cartone animato tant'è che ci sono le famose canzoni cult del lungometraggio animato La Bella e la Bestia che è uno dei film più belli e più celebri di casa Disney e mi sembra che sia stato l'unico ad aver ricevuto una nomination come miglior film ai premi Oscar per cui è stata una cosa davvero eccezionale ed è uno dei miei film preferiti di casa Disney perché il film di animazione è davvero sublime il film live action è bello perché è bello cambia un pochino le cose per quanto riguarda alcuni aspetti la rende un pochino più emancipata la protagonista Belle ma complessivamente la storia è quella non viene snaturata e non viene cambiata in modo non viene cambiata e la struttura non viene completamente sradicata ha avuto enorme successo tant'è che si parla di un prequel e di una serie televisiva incentrata sul duo che è Letonte e Gaston perché il duo qui ha dei siparietti un pochino goffi comici quasi da copia omosessuale per cui si vocifera che questa loro relazione verrà espansa in una serie televisiva in un prequel o in qualcos'altro per cui ha dato vita anche a questa sorta di questa copia qui infatti nel cartone animato invece la loro relazione serviva per lo più come motore comico in cui troviamo quello che si crede furbo che in realtà è tonto e il tonto che in realtà non è così stupido ma è quello più dritto dei due quindi serviva da motore comico mentre nel lungometraggio live action questa cosa questa dinamica viene un attimino cambiata e modernizzata è un film molto carino la steelbook è italiana è un artwork davvero fantastico coloratissimo che si focalizza su un elemento iconico del lungometraggio ovvero la rosa della bestia che sta nella sua campana di vetro film molto bello molto carino preferisco il cartone animato per ovvie ragioni anche nostalgiche ma il film è complessivamente molto valido sicuramente uno dei più belli di questo filone reimmaginazioni Disney poi passiamo a un altro film reimmaginazione Disney che è praticamente la traslazione per il grande schermo in live action del cartone animato ovvero al libro della giungla diretto da John Favreau dunque dal punto di vista degli effetti speciali il film è davvero una gioia per gli occhi perché gli effetti speciali sono davvero all'avanguardia e sono incredibili perché gli animali sembrano proprio realistici proprio veri ed è stato fatto un lavorone da questo punto di vista qui davvero la storia di Mogli e del libro della giungla non è mai stata così bella dal punto di vista spettacolare dell'immagine e gli animali sono davvero fantastici davvero stupendi e la storia prende di pari petto quella del cartone animato e ci sono al suo interno anche le classiche canzoni non è propriamente un musical come La Bella e la Veste che quello utilizza anche come diciamo genere proprio il musical qui invece è più una storia di formazione una storia d'avventura e ci si focalizza prevalentemente sulla formazione e sulla storia di questo giovane uomo che è alla scoperta di se stesso film molto bello viene mantenuta come canzone portante quella celebre del cartone animato ovvero lo stretto indispensabile cantata dall'Urso Balù questa qui è la steelbook italiana con ben due dischi il disco 3D e il disco Blu-ray ovviamente audio italiano una steelbook molto bella una steelbook dall'artwork completamente verde che richiama l'elemento della giungla in cui possiamo vedere Mowgli il nostro piccolo uomo Mowgli con Bagheera sulla falsa riga e sul successo del libro della giungla ovvero il re leone praticamente la tecnologia utilizzata per realizzare i vari animali nel libro della giungla è stata espansa è stata migliorata ed è stata perfezionata per rendere molto bene l'interazione tra i leoni le iene e il mondo della savana per questo remake live action del cult il re leone un film animato davvero leggendario che viene trasposto molto molto bene sul grande schermo infatti il film live action è molto fedele ed è un live action particolarissimo perché non ci sono umani quindi è praticamente quasi un film di animazione se vogliamo se vogliamo perché è un film interamente realizzato in CGI in computer grafica per cui è quasi un film di animazione di computer grafica non c'è nessun elemento di realtà di live action non ci sono riprese dal vivo non c'è niente di di elemento diciamo vivo dal punto di vista grafico dal punto di vista dell'animazione davvero spettacolare riuscitissimo però è al neo che è praticamente identico al cartone animato per cui non ho visto tutta questa necessità di guardare il film tante volte il film live action quindi preferisco di gran lunga il cartone animato piuttosto che il film capisco anche l'esigenza di far conoscere la storia nelle nuove generazioni ma è nettamente meglio il cartone animato ragazzi niente di niente da dire almeno per me questa qui è la steelbook italiana in cui troviamo il nostro leone simba in tutto il suo splendore è una steelbook 4k più blu ray edizione italiana ovviamente adesso passiamo a un altro film diretto da tim barton un'altra reimmaginazione disney che prende una strada completamente diversa perché comunque la storia viene cambiata radicalmente viene mantenuta all'ossatura e viene mantenuto il centro del film ovvero il piccolo elefantino dumbo però la storia viene comunque completamente stravolta riscritta per dar vita a un film per famiglie davvero divertente colorato all'insegna anche del buon umore perché è uno di quei film da guardare con tutta la famiglia molto carino divertente con un film al lieto fine che piace a tutti e con tanti elementi carucci carini che che fanno sorridere e che intrattengono molto bene il nucleo familiare quindi molto carino vengono mantenuti alcuni elementi cult come il bambino come il diciamo l'esserino dumbo l'elefantino dumbo l'elemento del circo poi per il resto visto che è un film che si concentra sugli umani sulle persone in carne ed ossa troviamo come protagonisti un gruppo di circensi alle prese con con la crisi del mondo di circensi con la crisi del mondo del circo e che interagisce con Dumbo e la famiglia deve combattere contro un nemico che vuole sfruttare le potenzialità di Dumbo che è un elefantino volante per cui vengono mantenute queste peculiarità nel lungometraggio di Tim Burton che complessivamente mi è piaciuto si guarda volentieri è molto molto bello nonostante sia completamente diverso dal lungometraggio animato il film è molto piacevole è godibilissimo funziona e prende questa qui è la steelbook italiana in cui troviamo l'elemento del tendone come sfondo e il nostro Dumbo che sta per spiccare il volo la scritta non è in rilievo non è debossed quindi è solamente una scritta molto colorata e la steelbook è italiana e contiene un disco blu-ray al suo interno adesso passiamo a una reimmaginazione Disney che ha avuto tantissimo successo è uscita qualche anno fa Aladdin basato sulle mille e una notte sulle fiabe delle mille e una notte questa è una bella reimmaginazione tiene l'ossatura del film di animazione ma cambia alcune cose che sono state ammodernate per stare al passo con i tempi in particolare il ruolo della principessa Jasmine viene un attimino emancipato viene portato a un livello un pochino più attuale più fedele alla contemporaneità al ruolo della donna al giorno d'oggi quindi viene fatto anche un lavoro di adeguamento dal punto di vista anche della caratterizzazione sul personaggio principale sul personaggio femminile il film ha un enorme successo grazie anche alla performance di Will Smith nei panni del genio nel cartone animato che è uno dei più belli in assoluto di casa Disney degli anni 90 rimane impareggiabile perché funziona benissimo però anche questo remit live action secondo me rende molto bene è stato un bellissimo una bellissima e piacevolissima visione al cinema funziona secondo me funziona molto bene la storia è stata adattata molto molto bene ed è stato un enorme successo e potrebbe dar vita anche a un sequel alla regia troviamo Guy Ritchie che anche lui lo troviamo in una vesta abbastanza tipica perché è uno un regista improntato più sul genere gangster sul genere comunque action ed è questo qui è un film per tutta la famiglia un po' e quindi sembra quasi un po' esce un po' fordato infatti il film non ha grossi virtuosismi dal punto di vista registico ma ha degli ottimi effetti speciali e l'ossatura della storia viene mantenuta inalterata per cui il film complessivamente piace ha avuto enorme successo ha colpito il cuore degli spettatori questa qui è la steelbook italiana in 4k e all'interno contiene il 4k e il blu-ray è una delle steel più belle che possiedo perché la ritengo davvero magnifica con l'elemento della lampada e con la scritta aladin in relievo davvero 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 bella molto molto bella come steelbook ovviamente una steelbook italiana una delle più belle della mia collezione da uno dei più bei remake live action disney passiamo a uno dei più brutti alla steelbook di mulan di nikikaro che dire questo qui è davvero un film bruttissimo fra tutti i film che vi ho presentato qui adesso mulan è il film più brutto in assoluto di tutti questo qui sbaglia completamente tutto sbagliato l'adattamento sbagliata la storia sbagliato l'ammodernamento tutto 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 errato in questo lungometraggio qui secondo me di mulan in questa storia live action di mulan perché non ha assolutamente nulla a che vedere con mulan è vero che hanno voluto rendere la storia fantasy incentrata prevalentemente sui combattimenti in stile cinesi quelli vuxia focalizzati alla spettacolarità in questa sorta di fantasy orientale però è realizzato male la storia è brutta le scene action sono davvero mal confezionate e anche la stessa mulan viene completamente ricostruita ma viene completamente rifatta rispetto a quella dei cartoni animati quindi hanno reso una delle più belle storie uno dei più bei personaggi femminili di casa disney per quanto riguarda l'animazione un personaggio femminista quasi che andava contro che era contro corrente verso gli usi e i costumi della società che si traveste da uomo era una storia rivoluzionaria che permetteva anche alle donne di compiere un passo in avanti dal punto di vista della lotta della parità di genere quindi è stato un film importantissimo per l'emancipazione della donna quel cartone animato lì storico di mulan mentre questo film qui ha buttato giù tutto ciò che poteva buttare giù per quanto riguarda questi aspetti quei femministi ed è stato un clamoroso flop ed è brutto onestamente brutto io l'ho comprato prevalentemente per per collezione per non starli a rovinare la collezione dei remake live action Disney ma è un film che non rivedrò e non non sono non mi ha lasciato un bel ricordo non sono intenzionato a vederlo nuovamente davvero brutto brutto bruttissimo inguardabile e adesso passiamo agli ultimi due film di questo filone reimmaginazioni Disney con il primo vero remake live action Disney per quanto riguarda questo filone reimmaginazioni Disney insieme a Alice in Wonderland di Tim Burton il film in questione è Maleficent con Angelina Jolie un film che è bello molto bello che è un prequel della storia della bella addormentata nel bosco che si focalizza sulla prospettiva della strega di Malefica che è uno dei villain più celebri del mondo Disney uno dei villain uno dei cattivoni più celebri della storia del cinema complessivamente Angelina Jolie è molto brava magnetica e sensuale rende molto bene questa figura affascinante e il film pur essendo un prequel pur cambiando radicalmente alcune cose della celebre storia complessivamente sta bene risulta bene è molto coeso l'universo la mitologia che vuole presentare in questa nuova iterazione è ben coesa e funziona 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 le dinamiche tra Aurora la giovane principessa e diciamo questa strega questo essere particolare che è in Malefica questo duo funziona molto bene quindi è un film fantasy dallo stampo mediovale quindi uno di quei fantasy puri ed è un film bello complessivamente funziona molto bene che ha avuto enorme successo all'epoca questa qui è la steelbook britannica di Zavi in 4k e blu-ray con all'interno audio tagliano su entrambi i dischi sia sul blu-ray che sul 4k questa qui è la seconda tiratura la seconda versione perché Zavi aveva proposto con il medesimo artwork e tutto ai tempi ai tempi quando uscì in un video propose il film in edizione steelbook in blu-ray quella steelbook lì è una delle più rare di questo filone Disney Zavi della serie Zavi è una delle steelbook Disney più ricercate sul mercato anche perché presentava l'iconica diciamo l'iconico artwork qui di Malefica tutto in rilievo e quindi era nettamente meglio rispetto a questo qui questa qui è un adattamento in cui viene introdotto il disco 4k infatti è uscito anni dopo è uscito qualche anno fa un paio d'anni fa questa nuova versione steelbook di Malefica di Maleficent perché mi ero perso la prima la prima tiratura la prima stampa la prima versione mi va benissimo perché mi ha permesso di recuperare un titolo che mi mancava anche perché Maleficent è stato un enorme successo e ha dato vita a un seguito che si chiama Maleficent Signora del Male anch'esso un buonissimo film che prosegue la storia del precedente capitolo e porta avanti diciamo la storia di Malefica quindi veniamo conoscenza in maniera più approfondita delle sue origini del suo diciamo filone del suo essere divino e quindi c'è un'ottima storia le due steelbook sono quasi complementari perché qui troviamo il nero di Malefica con il suo diciamo primissimo piano con lo sguardo enigmatico di Angelina Jolie mentre qui troviamo Angelina Jolie e la nostra Malefica di lato con il suo lato destro e sono molto simili anche qui la troviamo in primo piano solo che qui diciamo che rende molto bene la sfumatura bianco e nero perché lo sfondo è illuminato sovraesposto mentre la figura di Malefica viene messa un pochino in oscuro questa steelbook di Malefica Signora del Male è una steelbook italiana è uscita in Italia per cui sono contentissimo di aver recuperato ai tempi la steelbook 4K di Zavi perché sono complimentari qui ovviamente c'è la questione delle costine che non non vi spiego più perché la Disney ha fatto una cavolata perché alcuni titoli sono usciti con le faccine alcuni sono usciti con la scritta per cui ha fatto davvero una cavolata che ha rovinato un po' la collezione perché tutte queste steelbook qui le costine di queste steelbook qui sono completamente diverse quindi alcune hanno le cosiddette faccine mentre altre no per cui non entrerò in questo dettaglio qui che è denoto a qualsiasi collezionista di steelbook Disney quindi la Disney ha fatto una cavolata e è andata così quindi queste qui sono le ultime due steelbook che fanno parte della mia collezione steelbook Disney live action quindi abbiamo concluso questo percorso qui spero che le mie steelbook vi siano piaciute fatemi sapere nei commenti se a voi questi film vi piacciono se vi piace il filone live action Disney di questa sorta di reimmaginazione Disney classici film di animazione di casa Walt Disney Animation e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se anche voi possedete tante steelbook Disney se le collezionate se le collezionate o meno io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine vi do appuntamento fra qualche giorno con un nuovissimo eccitante video a presto